Lo Stato deve promuovere la vita o l'autonomia dei singoli? E nel caso del suicidio assistito deve farsi carico della scelta individuale di morire? Chi decide quando la sofferenza fisica o psichica è diventata talmente insopportabile da poter consentire l'eutanasia? Queste sono alcune delle domande emerse durante il convegno organizzato dalla consulta di bioetica ONLUS sul tema la scelta di Brittany e la morte volontaria. È un caso isolato o ha un futuro? L'incontro, che si è tenuto lo scorso 10 novembre a Torino, ha intrecciato pareri medici e riflessioni teologiche e filosofiche per approfondire i problemi sollevati dalla decisione della giovane statunitense di accedere al suicidio assistito dopo la diagnosi di un tumore al cervello senza speranza di guarigione. La tua posizione è chiara perché l'hai spiegata bene e cioè che il suicidio assistito deve essere fatto soltanto in base alla Pietas, su una base di Pietas e non sulla scelta individuale. Quello che volevo chiederti oltre a questo, che volevo chiederle, era anche, quindi se fosse un diritto garantito tutti da un ospedale pubblico, va bene o non va bene? Il suicidio assistito, io sono contrario al suicidio assistito, sono favorevole ad una legge sull'eutanasia che risponda a due criteri. La possibilità per chiunque di accedere a prescindere dalle sue condizioni economiche, da un lato, è la possibilità di accedere soltanto a coloro che hanno una malattia, che sia una malattia terminale, che sia una malattia mentale, con diagnosi mediche e dunque criteri certi. Questo preverrebbe qualsiasi tipo di abuso. Ecco, per malattia psichica si è parlato anche di un problema, perché non è facile identificare una malattia psichica grave, una grave depressione o quali sono i limiti? Cioè si apre un problema? In realtà poi dove ci sono le leggi ci sono anche i criteri di accesso. È evidente che la differenza fra un paese come la Svizzera, dopo il 25% di coloro che accedono a un programma di suicidio assistito, non ha alcuna patologia, e l'Olanda, in cui probabilmente questa percentuale sta sotto l'1%, è evidente. Io poi non sono uno specialista medico, quindi non so dire qual è la condizione patologica di malattia mentale, in questo caso che dovrebbe legittimare la possibilità di accedere ad un programma di suicidio assistito di eutanasia. Quello che io dico è che il criterio non deve essere un criterio unicamente fondato sull'autonomia personale, ma un criterio medico. La medicina è una scienza, anche la psichiatria ha dei criteri per distinguere chi è affetto da una patologia e chi no, e questo secondo me è di rimente. La mediazione del denaro, anche in caso di malattia, è una cosa positiva? Favorevole oppure no? Lei è favorevole oppure no? La mediazione del denaro... Vuol dire se deve comprare? No, io sono dell'idea che se questo è un servizio motivato da un'esigenza di cura e, diciamo così, dall'esigenza di alleviare la sofferenza di persone che soffrono, dovrebbe essere accessibile a chiunque, dunque non legato a condizioni socio-economiche particolari. Lo Stato laico deve garantire la vita o l'autonomia, come è venuto fuori alla fine? Lo Stato laico non deve garantire né la vita né l'autonomia, può anche garantire tutte e due assieme, ma il problema, a mio parere, è un altro, cioè noi dobbiamo, come dice giustamente, come scrive giustamente Gustavo Zagrebelsky, fare del suicidio, a prescindere dalle sue motivazioni, un problema di cui si fa carico la legge o dobbiamo semplicemente risolvere un problema che pone la medicina? Io credo che noi dobbiamo risolvere un problema che pone la medicina, e cioè il fatto che il processo del morire sia allungato, che la morte naturale è un concetto, è una situazione, è una fattispecie che non esiste più, che esistono persone, cioè che la medicina in qualche modo contribuisce a tenere in vita in condizioni di sofferenza enorme, noi queste persone possiamo aiutarle e quindi lo Stato ha il dovere di fare questo. Non saprei poi dire se lo Stato debba necessariamente proteggere o incentivare l'autonomia piuttosto che la vita, ma il problema vero è per quale motivo lo Stato deve pagare delle scelte autonome degli individui che in qualche modo non si radicano in una patologia sociale evidente a chiunque e in una condizione medica di sofferenza evidente a chiunque, secondo me non c'è alcun motivo. Però questa è una base che per l'aborto anche crea dei problemi, perché l'aborto è una scelta individuale che non pesa su una ragione sociale, ma strettamente individuale. Io non sono dell'idea che l'aborto si legittimi sulla base del fatto che la donna ha una proprietà sul proprio corpo come penserebbe il legislatore americano o comunque come pensa un certo filone di pensiero, femminista e non solo. Io sono sulla base del fatto che l'aborto debba essere una pratica depenalizzata per il semplice motivo e sotto certe condizioni, quindi non liberalizzata ma legalizzata, che debba essere resa possibile come ultima razio e dal momento che non abbiamo altre scelte. Tu non puoi impedire a nessuno di abortire e quella condizione particolare che lega il feto alla madre non è il segno del fatto che il feto non è nulla, non è un individuo appartenente alla specie umana e via dicendo. È semplicemente una condizione che costituisce un male minore, ma si tratta di una fattispecie per me completamente diversa.